Lecco FM, buon pomeriggio, siamo qui con Marcello Maruccia e Carolina Calato, siamo qui per parlare dei Futsal Days. Intanto, buonasera a Marcello, direttore generale del Calcio Lecco A5. Cos'è la generazione blu celeste intanto del Calcio Lecco A5? Allora, la generazione blu celeste nasce con la volontà di voler essere un brand, cioè un ambizioso progetto creato appunto dall'Ecco Calcio A5 che vuole sostanzialmente creare tutta una serie di servizi sempre collegati alla prima squadra, a quali possono essere merchandising, marketing, comunicazioni, partendo però dall'elemento fondamentale che è quello della creazione di una vera e propria generazione di calcettisti blu celesti. Ecco, e cosa sono i Futsal Days? I Futsal Days sono appunto una serie di manifestazioni non competitive che vedranno impegnate e rivolti sostanzialmente ai bambini. Adesso comunque c'è l'ideatrice del progetto Carolina Calato che vi illustrerà il tutto nel dettaglio e quindi che mirano sostanzialmente a far conoscere questa disciplina e far anche appunto giocare tanti e divertire speriamo tanti bambini della città di Lecco. Ecco, Carolina fondatrice della start-up Join-in che organizza eventi sportivi. Più tecnicamente di cosa si tratta? Che iniziativa è? Allora, i Futsal Days appunto sono una serie di giornate dedicate appunto ai bambini e ai più piccoli proprio con l'obiettivo di farli divertire e far conoscere questo sport. Avranno cadenza mensile queste giornate, il primo partirà il 27 febbraio, poi ce ne saranno due a marzo e poi un'aprile, maggio e ci sarà diciamo un evento finale a giugno proprio per coinvolgere più bambini possibili sperando appunto che la cosa più importante si divertano. E appunto questo diciamo i Futsal Days sono proprio queste giornate dedicate a loro. Ecco, a chi sono rivolti i Futsal Days e come fare a iscriversi? Sono rivolti ai bambini dai 5 ai 9 anni. Tutte le informazioni poi su ogni diciamo appunto giornata, specifico, ogni informazione specifica è sul sito dell'Eco Calcio 5, in particolare nella sezione Generazioni Blu Celeste. E comunque in generale per ogni informazione è possibile anche contattare i joinin, proprio me personalmente, sui social e posso dare ogni informazione anche su ovviamente la modalità di iscrizione. Quali sono gli obiettivi dell'iniziativa? Gli obiettivi sono appunto quelli di far conoscere questo sport ai più piccoli, di coinvolgerli, farli divertire e quindi essere... di far anche vedere come lo sport possa anche aiutare il territorio e le nuove generazioni. Ecco, tra l'altro appunto si parla di territorio di nuove generazioni, Calcio Lecco 5 è sempre più un punto di riferimento per il territorio nel Calcio 5, giusto? Si può dire così? Sì, sicuramente ad oggi siamo una delle realtà più rappresentative, permettetemi la modestia, non soltanto del territorio lecchese ma probabilmente di tutta la Lombardia, è comunque una delle società anche a livello nazionale tra le più, diciamo, affermate. Quindi siamo molto contenti di questo perché comunque ormai sono tanti anni che diamo lustro e pregio alla città di Lecco, ai suoi colori e per noi questo comunque è un motivo di grande orgoglio, ci dà ancora una spinta maggiore per cercare sempre di ottenere dei risultati migliori. Grazie mille quindi Marcello Maruccia e Carolina Calato, grazie mille e buona continuazione con Lecco FM.